Sulle liberalizzazioni, uno dei punti cardine dell'agenda del Governo, la Commissione Industria del Senato è alle battute finali, dopo un percorso niente affatto in discesa, soprattutto per le pressioni delle lobby. Per i partiti che sostengono il Governo, PDL, PDE e Terzo Polo, il Parlamento ha fatto un buon lavoro. E ora, grazie anche al contributo del PDL, le liberalizzazioni non sono più una ricetta astratta, ma sono misure concrete che servono all'economia e che portano un risparmio nelle tasche dei contribuenti. Io credo che il giudizio sia positivo, anche perché per la prima volta in questo Paese si affronta la questione della rottura di rescinti di privilegio, di esclusivo, di monopolio, di oligopolio e si apre a nuove opportunità economiche in un campo così vasto di attività. Casini, Terzo Polo, incoraggia il Governo ad andare avanti con determinazione sulle liberalizzazioni, se serve anche con il voto di fiducia. Per l'opposizione il provvedimento è da bocciare molte ombre e pochissime luci, accusa l'IDV. Il decreto sulle finte liberalizzazioni si sta trasformando in un contenitore vuoto. I veri poteri economici, banche, assicurazioni, petrolieri, non vengono scalfiti e l'economia non si mette in movimento. E per la Lega? Ci sono anche cose buone, tutta la parte infrastrutturale che era già stata scritta dal Vice Ministro Castelli, però questa della tesoreria unica è sufficiente per bocciare in toto il provvedimento. Un testo di 98 articoli, di cui circa una ventina ancora devono essere votati. Tre sono i nodi più difficili da sciogliere. Farmacie. L'accordo è vicino, ha detto la relatrice Vicari. Tra i punti in discussione, prima il quorum. Una farmacia ogni 3.300 abitanti. In totale 4.800 farmacie in più per garantire ricadute positive sui prezzi per i consumatori. Secondo, una parte dei farmaci di fascia C anche alle parafarmacie nei piccoli comuni. Tesoreria unica. La norma stabilisce che tutti gli enti locali, comuni, province e regioni debbano trasferire dalla propria tesoreria a quella nazionale le risorse che hanno in cassa, stimate per oltre 8 miliardi e mezzo di euro. L'obiettivo del Governo è di tenere sotto controllo la spesa pubblica. Taxi. In bilico il potere delle autoriti. Prima svuotata, sembra tornare in partita con nuovi poteri sostitutivi. Anche se dovrebbe rimanere a comuni e regioni, il potere di decidere sulle nuove licenze. Intanto la Commissione Industria ha dato il via libera ai tribunali delle imprese. Da 12 aumenteranno a 20 e serviranno ad accelerare i contenziosi economici. Passa la separazione SNAM e Rete Gas dall'ENI entro settembre 2013.